Che bello che siamo qua Ragazzi, è ufficiale Cosa? NBA Revision ci vuole sul suo sito Ma hai trozzato tu? Sì E quindi ci pagano Sto cazzo Ah, ieri Quindi figa Sto cazzo No, no, sempre la solita Ospiti Ospiti fighe Sì, sì, quello sì Do you believe in miracles? Dal prossimo episodio abbiamo Guido Ah, merda Fai tre stronze su un divano Basti a noi Bella ragazzi Ci vediamo sul NBA Revision Da lunedì Ho preso tutto con le donne